Enrico Coscioni è da sempre considerato l'assessore impectore alla sanità della regione Campania. Amico e braccio destro del presidente della regione, Vincenzo De Luca Coscioni, ha sempre condiviso la professione medica con un impegno anche di natura politica, ricoprendo ufficialmente anche l'incarico di consigliere delegato alla sanità del governatore. Dal 2014 al 2015 è stato anche membro del Consiglio regionale e vicepresidente della Commissione Sanità. Oltre ad essere ufficialmente direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera sanitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, è da novembre 2020 presidente di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, dove era entrato nel 2017 come componente del Consiglio di Amministrazione. Da sempre questa doppia faccia di impegno professionale con quello politico ha suscitato qualche critica all'interno, in modo particolare, del suo mondo professionale, la torre cardiologica. La recente scelta di alcuni medici di abbandonare il ruolo e di lavoro presso la stessa struttura, secondo indiscrezioni, era stata più volte attribuita proprio alla difficile convivenza con il primario. Tra le varie vicende, la più clamorosa riguardò la revoca dell'incarico all'ex direttore generale, Nicola Cantone, che aveva negato il ruolo di primario del reparto di cardiochirurgia ad Enrico Coscioni, proprio motivando la scelta per motivi organizzativi che non conciliavano la possibilità da parte di Coscioni di assicurare la presenza e il reparto per soli due giorni a settimana, preferendogli il secondo classificato. Il giudice, nell'ambito di questa inchiesta, ha respinto la richiesta di misura interdittiva della sospensione di Coscioni dall'esercizio ricoperto quale presidente dell'Agenas, ma non escluso che la Procura presenti ricorso rispetto a questa decisione. In passato, la Corte di Appello di Napoli aveva condannato in un'inchiesta che puntava a fare luce su presunte pressioni esercitate nei confronti di tre manager della sanità campana, lo stesso Coscioni che aveva indotto a dimettersi tre manager.